Salve a tutti, qui il vostro Mr. Volume e quest'oggi parliamo di qualcosa di un po' diverso dal solito perché volevo dirvi che ho passato qualche giorno in campagna in un posto sperduto ai confini del mondo e ritrovatomi lì durante questi pochi giorni ma molto intensi di puro relax mi sono ritrovato a esaurire tutte le letture che mi ero portato dietro perché ho letto troppo, c'era talmente poco da fare che mi sono dedicato praticamente esclusivamente alla lettura tutto ciò mi ha portato a tornare a frequentare le edicole, luoghi che ultimamente frequento sempre meno spesso sono sempre stato un amante dei fumetti ma soprattutto ultimamente mi rivolgo spesso all'usato e ai mercatini perché ci trovo intanto storie più piacevoli di quelle moderne che si trovano adesso almeno per quanto riguarda il mio gusto personale e poi soprattutto per il prezzo però in questo caso avevo le spalle al muro e quindi mi sono detto vabbè acquistiamo qualcosa di appena uscito al che sono stato colpito da qualche fumetto Bonelli, casa editrice che ho amato ma ultimamente mi ha molto deluso per quanto riguarda la qualità delle storie soprattutto e l'aumento di prezzi a parermi un po' esagerato in ogni caso colpito dalla copertina appunto ho comprato l'enciclopedia della paura che mi ha colpito subito perché nella grafica della copertina mi ricorda quelli che furono i vecchi almanacchi di Dylan Dog, gli almanacchi della paura degli anni 90 ovviamente che ho recuperato e sviscerato nell'usato che contenevano oltre che a delle storie inedite anche un sacco di approfondimenti per quanto riguardava la cultura horror dei tempi quindi il cinema, la musica voi non avete idea di quanti titoli ho scoperto soprattutto grazie ai primi tre almanacchi degli anni 90 e niente a questo punto ho comprata l'enciclopedia non avevo aspettative molto alte però devo ammettere che dopo averla letta tutta non posso che sentirmi abbastanza soddisfatto anche se continuo a ribadire non per essere venali ma 8,90 euro per questo tipo di albo o rivista a fumetti chiamatela un po' come volete è un po' tanto quindi la straconsiglio a tutti perché è una lettura piacevole è composta da tre storie inedite molto molto corte semplici ma non banali ecco anzi lasciano proprio tanti spunti, tanti interrogativi a fine lettura e poi ovviamente Labbonelli con furbizia ha affidato i disegni a dei fuoriclasse come Corrado Roy, Luigi Siniscalchi e Nicola Mari quindi diciamo che già solo per quei disegni vale comunque la pena l'acquisto oltre a queste tre storie che mi sono molto piaciute sono storie horror molto veloci, si leggono davvero in fretta la rivista in questione ha un bel po' di approfondimenti per quanto riguarda il cinema vi faccio vedere qualcosa alla veloce il cinema, le letture se non sbaglio ho visto anche sì, eccolo qua, stavo per prenderlo subito c'è Artil Clown di cui ho già parlato in qualche mio vecchio video qui sul canale molto interessanti, ovviamente molto poco approfonditi purtroppo ci sono comunque poche informazioni riguardo i vecchi almanacchi, mi dispiace dirlo ma sarò io che sono cresciuto però ci trovavo molti più spunti e mi segnavo molti più titoli quando andavo a leggere i vecchi almanacchi anni 90 però diciamo che nell'insieme ve lo posso consigliare se doveste trovarlo nell'usato a pochi euro vi consiglio di acquistarlo perché è una bella iniziativa per quanto sono tutte informazioni che sì, si possono trovare su internet sono il primo a sostenere che queste sorte di magazine ormai non hanno più senso con l'avvento di internet però in realtà trovarle ordinate per categoria, per argomento ben scritte comunque e oltretutto qua vengono proposte anche delle illustrazioni d'epoca molto belle ve ne faccio vedere una in particolare che mi ha colpito molto quasi andavano a toccare i miti greci, Ercole, Sirene si parla dell'origine dei mostri per quanto riguarda la letteratura si ipotizza che il primo mostro in assoluto sia proprio il Fantasma al quale è dedicata anche una delle tre storie di questo albo il Fantasma scritto da Plinio il Giovane 900 anni fa praticamente quindi si ipotizza che prima dei vampiri, dei vari Frankenstein o dei vari Wolfman il mostro più vetusto in assoluto nella storia dell'umanità sia proprio uno spirito che non riesce a trovare pace dopo la morte ecco voglio poi segnalare che ci sono dei cameo nelle varie storie nell'ultima ho intravisto, almeno credo che il disegnatore abbia voluto fare un omaggio nel volto di una ragazza in alcune inquadrature ravvicinate ricorda Mina mentre invece in alcune inquadrature più lontane Patti Bravo lo so che fa strano ma guardate se riesco a prendervelo alla veloce ve lo farò vedere, ecco in questo disegno per esempio mi ha ricordato proprio il volto della cantante Mina mentre invece in questa inquadratura mi ha ricordato molto Patti Bravo poi non so, magari mi sbaglio io o magari era proprio l'intenzione del disegnatore altra menzione speciale che mi ha fatto sorridere piacevolmente è che nella prima storia invece uno dei protagonisti di essa ha un volto a me molto molto caro e di cui non ho sentito parlare in tutte le varie recensioni che ho visto in rete in cui mi sembra che siano tutti esperti di film horror e amanti del genere però nessuno mi abbia menzionato il mio amore sublime che è quello per Bela Lugosi che in questo caso viene rappresentato qui non so se si vede bene ma vi assicuro che il volto è ripreso pari pari dal suo e questo mi ha fatto molto piacere che nel 2023 ci sia ancora qualche buon disegnatore che voglia omaggiare il personaggio iconico e meraviglioso che ha dato per quanto mi riguarda tante emozioni nei film dell'Universal che è nei film un po' più di serie B un po' più low budget che girava tra gli anni 30 e gli anni 60 vedere qualcuno che ancora l'omaggia nel 2023 non mi poteva fare altro che piacere ecco qua si vede anche molto bene il volto del Bumbella anche l'attaccatura dei capelli a V è proprio la sua bene detto questo il mio quattro chiacchiere può concludersi qui ho parlato fin troppo però ci tenevo a segnalare a tutti questa lettura ecco ripeto non consiglio assolutamente di comprarla nuova perché il prezzo di questi albi è esagerato ma chiunque volesse spendere questi soldi o come me si trovasse impossibilitato a trovare altro da leggere comunque non saranno buttati via ecco però vi assicuro che la potrete trovare facilmente tra qualche mese in qualche mercatino dell'usato a un prezzo inferiore della metà stessa del prezzo di copertina comunque ribadisco enciclopedia della paura con ottimi approfondimenti per quanto riguarda il mito del fantasma i miti greci e comunque la mitologia in generale e il personaggio della sirena detto questo spero che questo video un po' insolito vi piaccia fatemi sapere cosa ne pensate se volete che parli più spesso di fumetti dato che ne ho librerie piene ma più che altro di roba un po' più vetusta ecco di quella odierna e niente ci si vede al prossimo video mister volume vi saluta buona estate a tutti